ciao bambini oggi siamo andati a fare la spesa che cosa abbiamo comprato questa pista di lego di legno non di lego siamo andati a lidl e li abbiamo presi tutti cominciamo ad aprirli si siete curiosi certo e dopo piano piano con i più grandi piano piano che sono nuovi cominciamo col primo alla calamita subito preso quello con il braccio meccanico eh si questo qua è tutto di legno di plastica e con le calamite ma io non voglio questo voglio questo voglio questo voglio questo voglio questo voglio questo ehi dammi un pacco è stato tanto bravo il supermercato io voglio questo qua con il ladro dai prendiamolo leva la scatola davanti così vediamo anche noi leva 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 uh simone cosa stai prendendo la polizia che bello ci sono anche le manette no e qua guarda tutto lo vino sono giochi super rinforzati lo sapete sono super resistenti anche se casca non si rompono sono fatti di plastiche di legno molto facciamo test no dobbiamo giocare non fare il bufoncello ma questo cos'è il giubbottino ma le mani non si attacca si mi ha caduto il pacco ora lo devi prendere vai vai ciao ciao no no come tu mi vuoi prendere questo eh va bene te lo lascio prendere bello io apriamo anche questo pronti abbiamo tutti quanti io apriamo anche questo apriamolo apriamolo dai che voglio giocare anche io su 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 velozità ragazzi velozità 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 bruttosità bruttosità c'è uscito cosa che c'è uscito cos'è non lo so boh che cos'è non ci interessa lascia lì lascia lì è un biglietto sì il camion dei rifiuti ah si apre come che schifo dove li butti i tuoi rifiuti li vieni in casa sono a vedere la cucina si è schifo guarda che forte guarda esce di qua anche lui si apre ha un pacco consegno speciale consegno speciale consegno speciale non te lo consegno più consegno speciale dai dammelo eh no ora mi devi pagare la multa perché non l'hai consegnato cioè non l'hai preso in tempo guarda guarda così nooo si monta tutto che forte è bello aspetta ti aiuto da più il e poi ci sono tutte quante le spiegazioni abbiamo il set di autocarro poi abbiamo aperto i veicoli di servizio poi abbiamo aperto i set di pompieri e i veicoli di lavoro che sono quelli la facciamo le scatole così giochiamo guarda le scatole nooo mi sono attaccata la cuota la polizia guarda si attacchiano eh simone è mio e questa cos'è la maestra cos'è no io la devo è il carroattressi buongiorno cos'è cazzo all'uomo no cazzo all'uomo è la polizia cos'è quell'altro fammi vedere la scatola cazzo questo è il tubuletto guarda anti investimento nooo si è scantata no io sono il carroattressi lasciala così ok ah ma quindi tu li fai scantare così li puoi salvare no sei pessimo sì dai aspetta no questa non va dai spieghi guarda 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 ti manda anche giù i sud di gatti non lo voglio prendere ah si la prende dai è pesante, no di là non lo prende lo prende solo davanti guarda guarda è ciccione aiuto vi dovete prendere io sono un delinquente, è polizia è polizia guarda ha dovuto essere un delinquente tanto è un delinquente questi li apriamo, che dite? magari nel prossimo video ci vediamo al prossimo video ragazzi mettete tanto mi piace commentate e seguiteci ciao